Il grigio e il rosso, due colori in un'unica maglia per Cremona. In occasione del Natale della città, che è la tradizione fissa il 31 maggio del 218 a.C., l'Unione Sportiva Cremonese ha promosso l'iniziativa Coloriamo di Grigio Rosso la città. In questi giorni, grazie alla collaborazione con l'Associazione di Categoria, circa 200 negozianti stanno ricevendo in dono una maglia grigio-rossa da esporre nelle loro vetrine. L'iniziativa è nata per consolidare il rapporto che ci lega alla città di Cremona. Il legame che ci unisce è unico e indissolubile e sappiamo benissimo tutti che quest'anno è stato un anno difficile sotto tutti i punti di vista, sia per quanto riguarda la vita quotidiana, ma soprattutto anche per tutte le attività commerciali che sono molto importanti all'interno del contesto della città di Cremona. Grazie alla collaborazione di tutte le associazioni di categoria, quindi Confartigianato, il CNA, Confesercenti, Confcommercio, le botteghe del centro ed Asvicom, tutte le attività commerciali che hanno aderito alla nostra iniziativa, hanno potuto ricevere in dono una maglia grigio-rossa da poter esporre nelle loro vetrine. Nel corso della sua storia, Cremona è stata chiamata a rialzarsi parecchie volte, facendo fronte alle avversità con pragmatismo e intraprendenza. I colori grigio e rosso in tessuti in un'unica maglia sono i colori delle nostre radici, della passione che non tramonta mai, della resilienza permeata di ottimismo. È un simbolo di vicinanza da parte nostra nei confronti di questa attività, sperando che si possa ripartire tutti insieme verso la normalità e verso la vita quotidiana.